Buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro TG Sport. In apertura nei giorni scorsi si è insediato il nuovo Consiglio Comunale di Campobasso, assegnati anche gli incarichi Luca Praetano e il nuovo Assessore allo Sport. Luca Praetano, eletto Assessore allo Sport praticamente soltanto da qualche giorno allo Sport e alle politiche sociali. Stiamo svolgendo questa intervista ovviamente con la redazione sportiva di Telemolise. Queste sono due ambiti, due sfere delicate sia quelle delle politiche sociali a Campobasso che dello Sport. Parliamo appunto di questo Assessorato allo Sport di cui hai preso le redini da poco. Sicuramente è un tasto delicato a Campobasso dove si dice da anni, da tantissimi anni, che le infrastrutture sono carenti, le infrastrutture non sono proprio all'avanguardia, si parla delle gestioni, delle stesse. Ecco tu da Assessore neoeletto allo Sport che programmi hai in cantiere di attuare? Il primo passaggio è quello di una ricognizione generale che già ho programmato nei prossimi giorni per verificare qual è lo stato dell'arte delle strutture maggiori che abbiamo. Sicuramente incontrerò la struttura, successivamente l'intenzione è quella di incontrare i soggetti che nella scorsa consigliatura hanno preso le redini di queste gestioni, alcune sono state esternalizzate e riteniamo che sia giusta la linea di esternalizzare, infatti l'abbiamo sposata anche nella scorsa consigliatura. E' chiaro che però ci deve essere comunque sempre al primo posto l'interesse pubblico, quindi le convenzioni devono essere rispettate e questo verificheremo. Ecco, ci diamo del tu in questa intervista che cerchiamo di rendere il più possibile informale. Entrambi credo abbiamo a cuore le sorti dello sport cittadino e delle strutture campobassane. Una di queste imponente, sicuramente, forse anche spropositata per i tempi, è lo stadio di Campobasso che spesso appare come una cattedrale del deserto, riempito pochissime volte, sicuramente una struttura molto costosa, assente ad oggi una convenzione? Come per le altre strutture, anche in questo caso, l'intenzione dell'amministrazione è quella di verificare se ci sono le condizioni per una convenzione con la società. Questa è una cosa che va verificata sicuramente con la società, penso che sia normale. Io penso che ci siano tutti i margini per trovare un accordo, vediamo quali sono i termini. E' chiaro che, come ho detto prima, al primo posto sempre e comunque l'interesse pubblico. Questo deve essere, diciamo, il faro. E poi sono convinto che in questi termini si potrà trovare qualche condizione che effettivamente dia dignità a un posto che effettivamente, come hai detto giustamente tu, è spropositato, io ritengo, per la nostra città. E quindi generare forse qualcosa di nuovo, perché di questo, tra l'altro, ho sentito si parla in queste ore, però ovviamente è una cosa che non conosco e quindi verificheremo. E' una cosa che poi, evidentemente, se sarà vera, toccherà alla società esternare, anche a mezzo stampa. Sicuramente questa intervista non ha nulla di politico, però diciamo che sicuramente hai dalla tua un bagaglio sportivo, di esperienze sportive proprio praticate, che probabilmente non è che abbiano avuto tutti in passato, tutti coloro i quali hanno ricoperto il tuo ruolo, ma che può aiutare nell'adempiere a questo assessorato. Ma certamente io ho vissuto quello che viene definito lo sport minore. Io praticavo attetica leggera, ho giocato anche a calcio, giocavo in porta, diciamo, con risultati che non voglio indicare. Però diciamo comunque che ho giocato un po', ho praticato sport e questo mi ha fatto conoscere quali sono le esigenze dei cittadini, perché lo sport va distinto tra quello di cui parlavamo prima, cioè quello in cui si è spettatori, che è un aspetto importantissimo perché fa aggregazione, insomma, è una cosa su cui bisogna puntare, ma certamente uno sguardo ancora più importante bisogna dare allo sport praticato. E questo non significa solo calcio, significa anche gli sport minori. Dicevo, io venivo da Terega Leggera, ma c'è il tiro con l'arco, c'è il pattinaggio, ci sono tantissimi sport che dovranno avere pari di dignità. Certo, lo riteniamo anche noi questo. In conclusione di questa intervista di conoscenza, di presentazione, con il nuovo assessore allo sport Luca Praetano del Comune di Campobasso, possiamo dire quindi che una cosa, un concetto importante, quello per il quale la tendenza del Comune sarà quella di ovviamente mantenere la proprietà di alcuni immobili relativi allo sport, per esempio penso la stessa palestra a Sturzo a Campobasso, e continuare a dare la gestione ad alcune società a patto che queste società siano in grado di valorizzare questi immobili, giusto? Assolutamente sì. Ripeto, ci sono delle convenzioni in essere. Io penso che sia importante che... è un aspetto contrattuale fondamentalmente. e se vengono rispettati termini, assolutamente sì, anzi, nelle convenzioni a cui ho partecipato, insomma, nelle commissioni in cui si è parlato delle convenzioni, c'erano vari aspetti che riguardavano sia le migliorie da portare alle strutture, ma anche magari delle ore a disposizione dell'amministrazione per poterci fare attività di promozione allo sport. Insomma, ci sono vari aspetti che vanno in qualche modo indagati se tutto è secondo quanto previsto le convenzioni, assolutamente si proseguirà. Ed ora il calcio di Serie D a Campobasso e le nuove vicende societarie hanno spiazzato il tifo rosso-blu intanto ad Agnone e via all'azionariato popolare. Il punto è in questo servizio. Vediamo. Il tifo rosso-blu è rimasto abbastanza interdetto a fronte dei repentini cambiamenti avuti negli ultimi due giorni e nella presa di petto della situazione da parte di Mario Gesuè, che ad onor del vero era comparso davvero poco nelle vicende rosso-blu dalla fine del campionato in avanti. Tantissimi tifosi ci contattano per avere delucidazioni, per saperne di più su una situazione che aveva preso una certa piega che sembrava ormai definita, ma che adesso si presta a tutt'altri scenari. Non possiamo fare altro che prenderne atto. Gesuè, che vive fra Londra e l'Italia, ha in Molise il suo fidato collaboratore Raffaele De Francesco, che tuttora riveste il ruolo di direttore del marketing del Campobasso. Ma lo abbiamo ribadito spesso negli ultimi TG Sport, e probabile da quanto riferiscono fonti ben informate, che le cariche societarie in vigore possano subire un cambiamento radicale da qui a pochi giorni. Lo stesso Gesuè fa sapere indirettamente che a tempo debito anche lui si presterà dichiarazioni a mezzo stampa per spiegare lo tsunami rosso-blu delle ultime ore e che è arrivato al culmine, forse, di una discussione interna ma ricomposta. Ai tifosi interessano i programmi ed i fatti dal campo, dunque l'affidabilità finanziaria del Fondo Alley, i cui titolari sostengono di aver dovuto mettere mano ad un milione di euro nell'anno appena trascorso per appianare i tantissimi debiti lasciati da Perrucci e dalla sua compagnia. A proposito della compagnia di Perrucci, qualcuno che sembrava consolidato all'interno della società potrebbe abbandonare proprio in virtù del nuovo stato di cose venutosi a creare. Quanto all'aspetto sportivo, va detto che sono molto vicini ma non ufficiali i nomi del tecnico Mirko Cudini e del direttore sportivo Stefano De Angelis, 46enne originario di San Benedetto del Tronto. È possibile ipotizzare che i due tecnici lo scorso anno in forza al San Nicolò Notaresco possano portare nell'avventura a Campobassana un discreto numero di giocatori, proprio dal vicino Abruzzo. In questo senso si fanno i nomi di Dalmazzi, Fabriani, Candellori, dell'attaccante Minella e di Bontà. Per lui sarebbe un ritorno in Molise, quattro anni dopo la nefasta avventura sotto la guida di Cappellacci. C'è tutto un organico da rimettere in piedi a questo punto, con il dubbio possibile anche relativamente ad Alessandro Musetti, considerati gli orientamenti diversi, che vorrebbero attuare Gesuè ed i suoi collaboratori. L'Olimpia agnonese ha emesso un comunicato stamane confermando la notizia che avevamo anticipato ieri nel nostro TG Sport, cioè la partenza dell'azionariato popolare all'interno del comune alto molisano. Com'è consuetudine da qualche anno a questa parte, la società indice una raccolta fondi fra le attività e di semplici cittadini di Agnone, per raggiungere la fatidica cifra dei 20.000 euro tassa di iscrizione in serie D. Tutto questo è stato deciso ieri sera in una riunione di qualche ora, alla quale hanno preso parte una ventina di persone, fra soci e dirigenti in carica della società Granata. L'azionariato popolare per iscrivere la squadra è un chiaro segnale distensivo che conferma la volontà forte di ritornare in quarta serie per il tramite del ripescaggio. I vertici dell'Olimpia si presenteranno a Roma entro il prossimo 5 luglio per depositare tutto l'incartamento necessario per inoltrare domanda di ripescaggio. Si stanno tentando altresì anche lavori di mediazione con altre forze imprenditoriali della zona, affinché il presidente Colaizzo non rimanga da solo a trenare la società Granata. Un lavoro intenso da parte di dirigenti dell'Olimpia che sta lentamente dando i suoi frutti. Da ieri è partito ufficialmente l'azionariato popolare, chiunque volesse può effettuare un bonifico presso l'istituto di credito indicato di Agnone. Solitamente la cifra di 20.000 euro si è sempre raggiunta, a volte anche superata, e siamo sicuri che anche stavolta Agnone darà un forte segnale di vita rispetto al calcio che deve continuare a rappresentare un grosso indotto per un'area sicuramente non troppo avvantaggiata come quella dell'Alto Molise. Basket femminile di Serie A2. Definite le date della prossima stagione, il campionato 2019-2020 avrà inizio sabato 28 settembre e terminerà il 25 aprile. Si qualificano ai play-off le prime otto squadre di ogni girone. Le due vincenti saranno promosse in Serie A1. Al termine della regular season, le squadre classificate al 15esimo e 14esimo posto di ciascun girone retrocederanno direttamente al campionato di Serie B, mentre accederanno alla Coppa Italia le prime quattro in classifica al termine del girone di andata. La competizione tricolore è in programma dal 13 al 15 marzo 2020. Ed ora il calcio estivo. Ieri al Marco Vita Antonio di Ripalimosani si è svolta la Notte Rosa, serata interamente dedicata al calcio femminile. Cristian Cristoforo, assessore allo sport del comune di Ripalimosani. Un mese intenso si vive qui a Ripa a giugno perché c'è il torneo comune di Ripalimosani, un modo per avvicinare gente, un modo per promuovere anche comunque il calcio, la struttura del comune di Ripalimosani e un'occasione speciale anche per promuovere il calcio femminile. Hai detto benissimo. Il mese di giugno è il mese dello sport calcistico per eccellenza a Ripalimosani, uno dei due tornei calcistici di calcio ad 11 della nostra regione assieme a quello di Riccia. È da ormai cinque anni che abbiamo consolidato questa bellissima tradizione con l'aiuto di alcuni ragazzi ripesi. Ma quest'anno in particolar modo abbiamo lanciato come torneo promo quello del calcio femminile. Ha avuto da subito un ottimo risultato considerando anche il trend della nostra nazionale calcistica che auguriamo e auspichiamo che arrivi più in alto possibile. Le tre squadre invece che si affrontano stasera al Vita Antonio sono squadre comunque che hanno militato nel nostro campionato interregionale perché assieme all'Abruzzo e al Molise fanno un torneo unico e sono la squadra dell'APD Ripalimosani, la nostra squadra locale. Per noi è un'eccellenza, è un fiore all'occhiello in quanto ci sono dirigenti e giocatrici del nostro paese che portano avanti questa tradizione oramai da diversi anni. Assieme alle squadre del Mirabello e del Boiano che si sono aggregate a questa competizione. Per noi sarà solamente un anno di prova ma cercheremo di potenziare questo torneo con l'aiuto e il patrocino del Comune di Ripalimosani e di tutti gli sponsor che ci sono dietro. Personalmente sono orgoglioso perché oltre a rivestire loro il ruolo amministrativo sono assieme ad alcuni organizzatori dall'inizio di questa bellissima esperienza e ne sono veramente fiero che da un piccolo torneo regionale sta prendendo piedi a una bellissima realtà dalla quale escono fuori anche giocatori che calcano palcoscenici anche extra-regionali. Ripalimosani è un esempio di come una buona struttura possa servire anche per fare, possiamo anche dirle, un po' di economia perché comunque qui la sera c'è tantissima gente, c'è un punto gastronomico possiamo dire anche che stiamo aspettando a questo punto solo il palazzetto? Sì, a tal proposito diciamo è a brevissimo che assieme al cofinanziamento regionale ad un impegno economico del Comune di Ripalimosani verrà completato il palazzetto sportivo. Dopo qualche anno di attesa e assieme all'efficientamento energetico delle Torri Faro cercheremo di dare alla nostra regione, nella fattispecie al nostro comune una struttura che sia quasi un fiore all'occhiello di quella che è la realtà sportiva regionale. Assieme al polo sportivo abbiamo anche la sede della FIGC regionale per cui ne siamo fieri ed orgogliosi e questo non può far altro che accrescere diciamo l'appeal su Ripalimosani e sulle strutture sportive di Ripalimosani. Ed a proposito del torneo maschile, questa sera Ripalimosani all'eventi fischio d'inizio per la prima semifinale tra Costruzioni Romano e Luna Mora Utopia domani invece Ripalimosani Pizzeria Darino. Il Marco Vita Antonio in queste sere ha richiamato tantissimi appassionati di calcio che hanno avuto l'occasione di trascorrere delle piacevoli serate estive ma anche sport e gastronomia. Vediamo. Eccoci siamo con Daniele Vita Antonio che è mister di questo torneo ma nelle altre sere insomma ti diletti con la brace Daniele o no? Certo come no, per aiutare la società questo è d'altro. Però insomma da mister a cuoco il passo è breve? Sì, dalla panchina qua sono neanche 50 metri. Senti insomma questa era di storia è piaciuta molto dobbiamo dire quindi complimenti a te, complimenti a tutti i ragazzi. Non solo a me, a tutti quanti, per l'organizzazione. Guarda quanti ragazzi ci stanno là. Dando una mano tutti? Tutti, tutti. Ecco una cosa che ti voglio dire che sicuramente ti farà piacere è che tanti collaborate vi date una mano questo è un bel segnale perché poi tu sei un po' più grande insieme agli organizzatori però tanti ragazzi vi seguono. Sì sì, per fortuna sì, quindi meglio per loro perché imparano qualcosa da noi e poi fanno tutto loro e noi ce ne andiamo un po' in pensione dai. Senti per il calcio giocato quella finale persa i rigori ancora pesa un pochino sembra due anni fa se non sbaglio. Due anni fa finale persa i rigori e l'anno scorso semifinale persa i rigori. Senti un'ultima domanda, hai guidato la Juniores del Ripallimosani è stata una bella annata coincisa con le fasi finali avete perso nel sesto campano che è una squadra che da anni insomma è stata anche campione in carica quindi avete lavorato bene. Sì sì sì, i ragazzi si sono comportati bene quindi automaticamente il lavoro viene insieme se si lavora insieme si lavora bene se si lavora uno, se uno, non si lavora mai bene. E per il calcio A5 di Serie A l'Acqua e Sapone Calcio Montesilvano ha ufficializzato la nuova guida tecnica si tratta del molisano Damiano Cianfagna una decisione che rispecchia la politica del sodalizio protesa da rescianzi in campo e in panchina a giovani emergenti, preparati e professionali. E per il calcio A5 di Serie B la Chaminade Campobasso ha messo a segno l'ultimo colpo di mercato si tratta di Andres Alberto Panarotto laterale colombiano classe 96 chiusa la rosa nei prossimi giorni verrà reso noto lo staff tecnico. Ed ora la cinofilia lo scorso fine settimana il contado del Molise ha ospitato il consueto raduno del dottor Flavio Bruno professionisti ma anche proprietari di Cani hanno avuto l'occasione di un confronto. Luigi Miniello presente più che mai in questo appuntamento che era mai una consuetudine per tanti molisani ma anche per gente che arriva da fuori un appuntamento che si rinnova anno dopo anno in questa pace stupenda di Santa Croce grazie al dottor Bruno che ha messo in piedi questa manifestazione vi ritrovate soprattutto per socializzare per scambiare idee soprattutto per guardare al futuro. Sì 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 siamo per lo più tutti appassionati di razza quindi non a scopo di lucro io personalmente come penso tutti i presenti con i cani ci lavoriamo quindi sono dei compagni dei compagni di vita che fanno il loro mestiere io ci lavoro perché da qualche anno a questa parte hanno rintrodotto e ritornato a farsi vedere il lupo quindi con le vacche con le pecore l'unico cane che è in grado di fronteggiarlo e tenerlo a bada è il pastore il mastino abruzzese. Il lupo che poi è bandito a queste parti. Sì sì il lupo noi così evitando sempre nel rispetto della natura evitando di mettere trappole si è visto che nel passato per combatterlo sono stati usati veleni quindi ammazzando anche i cani e tutti gli esseri che mangiavano queste carni avvelenate quindi con il mastino abruzzese stiamo facendo un buon lavoro il lupo resta nel suo bosco nella sua vita selvatica il mastino abruzzese ci custodisce al meglio le greggi e gli animali facendoci dormire tranquilli la notte. Senti ma che valore ha questa giornata stupenda perché tra l'altro richiama tanti appassionati che vuoi o non vuoi portano consiglio portano qualcosa di nuovo soprattutto per cercare di far crescere questi cani in un ambiente sano, pulito. Sì io personalmente questo è il consiglio che darei a tutti prima di acquistare un cane o di scegliere la razza prima di informarsi quindi questa è una giornata di divulgazione culturale credo di accertarsi e di diciamo conoscere la razza la razza è il lavoro del cane perché io qui vivo in Molise quindi a Rotello vicino Santa Croce di Magliano passa il foggia celano ci abbiamo gli animali ci abbiamo il tratturo il foggia celano ci abbiamo gli animali quindi io è impensabile di lavorare magari con degli aschi oppure con dei chihuahua io sto il cane adatto a me è il mastino abruzzese quindi io il consiglio che do è esorto tutti gli appassionati di prendere e acquistare il proprio amico in base alle proprie necessità territoriali e personali altrimenti credo che andremo a danneggiare sia l'animale che noi stessi due le appuntamenti in programma questo fine settimana al centro M2 di Campodipietra verrà presentata domani sera alle 18.30 presso il centro sportivo la prima edizione di M2 senza frontiere la sfida dei comuni la manifestazione che si svolgerà il 5 ed il 6 luglio sabato invece sempre al centro M2 saranno circa 80 gli atleti impegnati nella seconda edizione dell'Extreme Race M2 la competizione si svolgerà lungo un circuito di 6 km e mezzo durante i quali gli atleti affronteranno 14 postazioni di ostacoli che renderanno molto duro l'arrivo alla finish line il ritrovo e l'accreditamento presso il centro M2 sportivo alle ore 9 la partenza alle ore 10.30 ed ora il calcio regionale di seconda categoria stagione perfetta per il Sepino che in tutto il campionato 2018-2019 non ha mai perso vediamo Emanuele Di Benedetto centrocampista del Sepino insomma è stata una grandissima stagione per voi questa è una delle coppe questa è la coppa della Coppa Molise che avete vinto praticamente qualche giorno fa in finale tra l'altro è stata una bellissima finale perché perdevate 2 a 0 se non sbaglio sì è stata una bellissima finale che perdevamo 2 a 0 poi per fortuna dal settantesimo in poi è venuta fuori la squadra e abbiamo vinto 5 a 2 ai supplementari ai supplementari sì ecco siete stati anche degli eroi perché avete giocato praticamente a metà giugno immagino una domenica caldissima temperature veramente proibitive è stata una grande annata praticamente non avete perso una partita avete vinto il campionato avete vinto la Coppa delle vincenti di seconda categoria e poi questa Molise Cup annata fantastica per il Sepino sì per fortuna quest'anno abbiamo avuto un grande gruppo composto comunque da 25 calciatori tutti indispensabili ragazzi che comunque si sono allenati con il freddo con l'acqua con la neve quindi tutti indispensabili quest'anno assolutamente perché poi magari in queste categorie ci sono anche dei sacrifici maggiori per mantenere un gruppo così grande e coeso eh sì perché comunque è una squadra composta da persone che lavorano ragazzi che studiano quindi si sa queste categorie sono un pochino così però siamo riusciti a fare un'annata bellissima avete creato diciamo una piccola comunità eh anche perché avete ricordato un un amico con una maglia che avete donato al comune sì infatti la vittoria di questo campionato oltre a dedicarla a noi stessi la vogliamo dedicare a questo caro amico Carlo Rucci che è venuto a mancare quattro anni fa quindi un bravissimo ragazzo e quindi insomma avete voluto ricordarlo con questa maglia firmata è stata una bellissima iniziativa e anche nel suo nome sarete pronti nella prossima stagione a giocare questo campionato di prima categoria che avete guadagnato sul campo eh speriamo bene che riusciremo comunque a fare un'annata come quella di quest'anno anche se sarà più difficile perché il livello si alza però speriamo bene il gruppo ci sta e parliamo adesso di prevenzione a Macchia di Serni è stato posizionato un defibrillatore al centro del comune l'intenzione è quella di dotare anche gli impianti sportivi di questo strumento salva vita il 118 si è occupato della formazione vediamo Daniela Padula del servizio 118 del Molise finalmente c'è un defibrillatore anche a Macchia di Sernia ma chiaramente per usarlo bisogna essere preparati ecco come ci si avvicina a questo defibrillatore come si usa? L'anno scorso sono stata invitata per un corso qui a Macchia perché c'era l'intenzione di comprare un defibrillatore e far sì che Macchia diventasse un comune cardioprotetto nel Molise già sono circa 30 i comuni cardioprotetti per cui c'è stata una sensibilità della cittadinanza di integrarsi con il soccorso avanzato cioè con l'arrivo del 118 in una catena della sopravvivenza nella quale i laici possono integrarsi con l'arrivo dell'ambulanza e operare loro per primi sulla persona in difficoltà sulla persona che sta male sulla persona che è in arresto cardiaco i corsisti che sono stati circa 20 hanno appunto si sono sottoposti ad un corso di 10 ore nella quale con una parte teorica un'esercitazione sui manichini e dei quiz terminati con un vero e proprio esame hanno acquisito l'attestato di esecutori di BLSD cioè di Basic Life Support e autorizzazioni all'uso del defibrillatore che nella regione Molise viene erogato dagli istruttori del 118 affinché il laico il cittadino imparando queste manovre si integri poi perfettamente con l'arrivo dei sanitari e quindi con l'ambulanza con le manovre che vengono poi eseguite dai sanitari ed in chiusura una notizia questa sera a partire dalle 19 sono in programma le finali del Beach Volley Cup Campobasso a partire dalle 19 via le finali in ordine 2 contro 2 femminile misto e maschile poi spazio alle finali 4 contro 4 gold e silver bene con questa notizia termina qui la nostra informazione sportiva vi ringrazio per l'attenzione vi auguro un buon proseguimento di giornata